A giri, questa è una ventola che mandava all'aria sotto e si alimentava il fuoco. Il ferro, la verga di ferro diventava rossa, una base di ferro grande modellata per mettere i ferri, diciamo per modellare i ferri, per renderli come la forma del fuoco. Quindi questa verga si metteva qua sopra e si metteva il martello a destra lei? Sì, levate le mani, gli altri. Prende la tenaglia, se non si scottava e faceva così. Con la tenaglia tenevi quello di ferro, il chiodo di ferro e poi lo forgiavi. Quindi con questa lada del chiodo, questo diventa un grande chiodo. Sì, sì. Allora, avete girato la manovrella dell'aria? Sì, quella è. Grazie a tutti. Grazie a tutti.